Salve a tutti. Sono VodkaForzaYansZ. E niente. Che devo dire? YouTube è merda. Che altro devo dire? Anzi, che altro c'è da dire? Precisiamo. Comunque, qual è il problema stavolta? Mi è stato rimosso un video per una presunta, ripeto, presunta, violazione delle norme del cazzo della fottuta finta comuniti di YouTube. Allora, andiamo a leggere la mail, anzi, mi permetterei di chiamarlo bollettino dittatoriale della YouTube Stapo. Salve VodkaForzaYansZ sti cazzi, fanculo a voi lor signori di YouTube, cazzo volete da me code stavolta? Come forse saprai? No 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 no, alt, fermi tutti. Cioè, io vi do del voi informale nemmeno foste Marchesi educa Conti, e voi mi rispondete dandomi del tu? Ma, mi dà del tu? No no, dicevo, batti lei? Ah, congiuntivo. Sì. Aspetti. Cioè, ma mi prendete per il culo? Mi stai prendendo per il culo? Nemmeno de lei informale tanto in voga nel galateo contemporaneo. Vabbè, andiamo avanti. Come forse saprai, le norme delle community descrivono quali contenuti sono consentiti e quali non sono consentiti su YouTube. Il tuo video ci è stato segnalato per la revisione. Dall'esame è emerso che il video viola le nostre norme ed è stato rimosso da YouTube. Allora, se vogliamo fare i precisini sui contenuti consentiti e quelli non consentiti su YouTube, allora perché non dite nulla in merito a video di chi bestemmia, per esempio, o comunque a altri atteggiamenti scorretti? Eh? Ah già, io sono uno YouTuber con pochi iscritti in proporzione ad altri cosiddetti big, e non ho nemmeno un manager che mi scrive il copione da recitare e che metta la manina su per il popo, e che allunga la bustarella. Sorry not sorry. Sappiamo che questo potrebbe rattristarti. Non ho tranquilli, questo mi fa proprio incazzare, è diverso. Ma per noi è importante che YouTube sia un luogo sicuro per tutti. Se i contenuti violano le nostre norme, verranno rimossi. Se ritieni che sia stato commesso un errore, puoi presentare ricorso ed esamineremo nuovamente i tuoi contenuti. È proprio quello che ho fatto, ho presentato una contestazione, ho riportato gli articoli di legge della Costituzione italiana che mi garantiscono la libertà di espressione, anzi, ve le ripeto pure qui. Attenzione! Il diritto di satira trova il suo fondamento negli articoli 21 e 33 della Costituzione che tutelano, rispettivamente, la libertà di manifestazione del pensiero e quella di elaborazione artistica e scientifica. La satira, in quanto operante nell'ambito di ciò che è arte, non è strettamente correlata ad esigenze informative, dal che deriva che i suoi limiti di libertà siano ben più ampi di quelli propri del diritto di cronaca. Anzi, mi permetto di far notare, cara YouTube Stapo, anzi ancora, cara un cazzo, che siete talmente dittatoriali da non consentire una risposta scritta che vada oltre i 300 caratteri. Perché se no, vi riportavo pure gli articoli di legge della vostra cara Costituzione americana, che, invece, vi riporto anch'essi qui di seguito. Ma vabbè, andiamo avanti. I contenuti che violano i termini di servizio di YouTube o che incoraggiano altri utenti a farlo non sono consentiti su YouTube. Appunto, cosa vi ho detto sinora? Invece di venire a scassare la minchia a me, andate da chi pubblica le peggio cose su YouTube. Io vi ho fatto l'esempio di chi vestigna, ma c'è molto di peggio su YouTube, ma del resto è come prendersela con chi ha buttato un pezzetto di carta per terra, ma non fare nulla per chi fa di peggio. E, povera YouTube, cordiali saluti, il team di YouTube. Un sentito vaffanculo. Vodka forse Jansz. Comunque, cos'è successo? Vi spiego, avevo pubblicato qualche settimana fa, una pub assolutamente normale, normalissima, con delle source usate anche da tanta altra gente per le sue poop. Eppure mi è stata rimossa. Poi, vabbè, c'è sempre il bimbo minchiano la facente o il leone da tastiera che evidentemente perde tempo nella sua cameretta puzzolente di seghe e scorregge a casa di papino e mammina che stanno li ammettere dislike invece di farsi una vita eccetera, poveri frustrati. Per concludere, YouTube è una dittatura, a voi le conclusioni. Da Vodka forse Jansz è tutto, ciao.